Sì, è vera città. Una buona ragazza, no? Gloria. Io ti ho detto. Grazie. Ah, perché grazie a cosa? Niente, così. Siamo lasciati prima che partissi militare. Io non lo saprei. Forse l'avevi detto a mamma. No, 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 non l'avevo detto a nessuno. Mi ricordi. La prima persona che lo dico. Ma forse è meglio così. Una famiglia sballata, genitori separati. Io penso che non era la ragazza giusta, perché hai fatto bene a dare un taglio. Veramente, il taglio non è che l'ho dato io, l'ho dato lei.